buonasera buonasera a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di come se fosse facile l'approfondimento televisivo di rimini sociale riprendiamo questa settimana dopo la pausa per le festività natalizie e cominciamo con un argomento che in qualche modo ha a che fare anche con quello che abbiamo appena passato durante le festività ovvero anche gli incontri a tavola con parenti amici e il cibo ma lo guardiamo da un punto di vista diverso quello della disfagia adesso come sempre ci guardiamo il filmato per scoprire l'argomento della serata quindi che cos'è la disfagia e soprattutto come sta cercando di affrontarla un'associazione idea flavor che ha trovato un un approccio diverso un approccio che non non si interessa solo diciamo al all'effetto al modo di superare il problema ma anche farlo mantenendo la dignità e soprattutto la voglia di partecipare a un buon pranzo a tavola vediamo il servizio e poi torniamo in studio a parlarne con i nostri ospiti da sempre la tavola è uno dei momenti più importanti della nostra quotidianità e a tavola che si parla e ci si confronta e si prendono le decisioni importanti il convivio e il fulcro attorno al quale ruota tutto il resto della giornata sia per l'aspetto sociale che per quello legato al piacere del cibo quando la possibilità di sedersi a tavola e mangiare con gli altri è compromessa tutta la vita rischia di incrinarsi la disfagia ovvero la difficoltà di deglutizione è un disturbo che può avere diverse origini ma spesso ha proprio questo come effetto così come ci racconta la logopedista linda innamorati che la definisce deglutizione stonata il termine medico tra virgolette è disfagia però parlare di disfagia sembra un'etichetta un po' più grossa di quello che è e mi metto nei panni di un paziente se io fossi un paziente arrivare da un amico dire sai ciao io sono disfagico è un po un po pesante questo pensa chissà cosa questo o chissà che patologia grave ha o magari questa è una nuova moda tra vegani e vegetariani e quindi un po l'ho semplificata perché ho pensato beh dai effettivamente io sono stonata non posso cantare uno che ha una disfagia non riesce a deglutire certe cose o comunque deve apportare certe accortezze è bene considerare che la disfagia non è una patologia in sé cioè un sintomo correlato ad altre difficoltà che possono essere di tipo neurologico di tipo motorio legate a delle sindrome nel caso magari di bimbi o delle problemi funzionali non so pensiamo a un bimbo con una labiopola toschisi ha un'alterazione proprio anatomica delle strutture adibite alla deglutizione quindi di conseguenza la sua deglutizione sarà complicata su certi aspetti o magari pazienti che hanno avuto traumi varie categorie da bimbi a adulti nell'anziano si parla di una si definisce presbifagia nel senso che un paziente anziano per sua connotazione perde un po le sue competenze quindi si affatica sempre di più perde delle funzioni a livello comunque muscolare di coordinazione di controllo quindi già un paziente anziano di per sé ha dei sintomi correlati alla disfagia non necessariamente deve essere costretto a seguire una dieta modificata però sicuramente è necessario portare delle accortezze se poi vi si associano altre compromissioni più o meno importanti queste accortezze vanno tenute ben presenti è chiaro che però il mangiare è una cosa per noi la parte più importante forse della nostra giornata e della vita in generale e per noi italiani è un momento di massima condivisione quindi nel momento in cui viene minato il momento del pasto il problema si fa sentire a forse più della patologia reale in secco la disfagia si affronta frullando il cibo riducendolo in pappa in modo che sia facile da deglutire ma in questo caso ciò che si perde proprio il piacere di mangiare con i propri cari i piatti preferiti e nel contempo si perde la voglia di andare a tavola perché si guarda con nostalgia e invidia gli altri commensali per preservare la dignità del pasto e renderlo ancora un momento piacevole è nata l'associazione idea flavor come ci racconta il presidente andrea vorabbi nasce da un'iniziativa un evento di qualche anno fa avevamo fatto un workshop a livello provinciale che coinvolgeva operatori di strutture per anziani disabili ospedalieri su un tema che era anziani gusto alimentazione e quella è stata l'occasione sostanzialmente in cui in quel momento sono emersi diversi aspetti interessanti che poi abbiamo approfondito con l'associazione uno in particolare era il fatto che quegli anni e oggi ancora di più oltre al 30 per cento delle persone che aveva in struttura presentava problemi di deglutizione e masticazione siccome avevamo scoperto che le varie risposte alimentari erano le più disparate quindi da buone eccellenti ad altre che lasciavano desiderare l'obiettivo dell'associazione era quello di cercare di capire se si poteva creare un qualcosa che in realtà riuscisse ancora a dare gusto soddisfazione a creare piacevolezza nel momento del pasto anche per gli ospiti della struttura e da lì il pensiero che porta poi alla nascita dell'associazione con tutta una serie di persone amici e professionisti sociosanitari della ristorazione che hanno messo a disposizione di tutti il loro sapere le loro competenze proprio per raggiungere quell'obiettivo che dicevo poco fa cioè quello di creare un sistema di risposte alimentari con la consistenza appropriata ma col gusto anche giusto l'abbiamo dimostrato anche oggi condividendolo con tutte le persone che hanno partecipato portandole una situazione proprio di gioco e di condivisione partendo proprio da quelle esperienze che in questi anni abbiamo conosciuto fino arrivare alla nostra sintesi sostanzialmente che è quella di una preparazione che scompone e non unisce ma che lascia la possibilità alle persone di decidere se ricomporre o meno oppure mangiare anche separatamente mantenendo i sapori e i gusti di piatti a cui eravamo abituati e quindi pensiamo oggi abbiamo visto le tagliatelle abbiamo visto della piadina trasformata e quello che è successo con i vari amici dell'associazione è stato proprio quello di esplorare il mondo gastronomico culinario senza darci dei limiti no venendo anche come dire andando a realizzare anche a trasformare dei piatti che mai e poi mai avremmo pensato di trasformare per intenderci ecco allora la chiave di volta se sulla consistenza purtroppo non ci sono alternative perché chi soffre di disfagia deve mangiare cibo con una consistenza molto morbida sul gusto invece si può lavorare io mi immagino il piatto come lo faccio esplodere quindi prendo un ingrediente di qua un ingrediente di là e poi lo assemblo portando i vari ingredienti in creme e poi una volta li ho portati in crema li assemblo a piacimento della ricetta l'unica cosa che nella disfagia nei piatti cremosi l'unica cosa che non riesce a riprodurre è il croccante tutto il resto ci può fare esempio l'altro giorno Maurizio mi ha chiesto ma ci potrebbero che differenza c'è fra una tagliatella al ragù e una lasagna al forno e ho detto la differenza è che c'è il sapore del ragù della pasta all'uovo del parmigiano e della besciamella e la gratinatura come si fa a dare il gusto della gratinatura del forno e lì dopo ci ho pensato e ho detto bisognerà gratinare del parmigiano farlo raffreddare portarlo in farina in polvere e poi da lì fare una crema aggiungendo un po di liquido piano piano e lì avresti il gusto del parmigiano gratinato cioè del formaggio gratinato non hai la croccantezza del parmigiano gratinato però c'è il sapore del formaggio gratinato la cosa importante è evitare il letto ma non solo perché sia una postura scorretta in sé ma perché il mangiare letto ci confonde pensiamo se abbiamo l'influenza noi siamo tutta una giornata nel letto perdiamo il senso del tempo quindi una persona con già una sua patologia che magari lo disorienta e o magari lo deprime anche un po rimanere sempre confinato nell'ambiente del letto lo di prima da una parte ancora di più e dall'altra non lo rende neanche poi ben aderente ed efficace a gestire in questo caso il momento del pasto invece il pasto al tavolo è già molto più motivante perché può essere qualcosa di condiviso so bene che sto mangiando sono a tavola e trovo la tavola apparecchiata magari mi sono alzato chissà magari mi sono anche un po vestito e non sono confinato lì al mio letto che diventa un po tra virgolette la mia prigione quella che all'inizio era un'idea un'intuizione ora è diventato una serie di incontri un'attività che coinvolge persone e associazioni nel 2019 idea flaevora organizzato diversi momenti per far conoscere le proprie attività alcuni insieme all'asp valloni marecchia noi praticamente cerchiamo di condividere visto che abbiamo l'idea che sia importante farlo diventare un patrimonio comune di condividere con le persone interessate questa scoperta quello che caratterizza un po la nostra associazione e lo facciamo attraverso due canali principali uno sono dei percorsi formativi che vengono offerti che riguardano persone che vivono a casa che possono essere familiari o assistenti familiari che custodiscono persone che hanno una problematica di questo tipo oppure anche personale di struttura in una logica proprio di condivisione di un sapere culturale che non è un peggioramento come dire un peggioramento organizzativo ma anzi può essere un miglioramento di qualità della vita anche per gli stessi operatori lo dico anch'io essendo avendo avuto un passato anche da operatori di struttura e quindi come dire capisco quanto il cibo per le persone che vivono in quel contesto non più a casa loro possa avere un valore no perché sono tanti i momenti della giornata cadenzati dal cibo pertanto se riusciamo a rendere quel momento piacevole per noi a casa ha un valore per chi non è più a casa in un altro contesto ha un valore al quadrato per intenderci e questo è una filiera e un percorso. L'altro percorso è abbiamo scritto un libro e quindi abbiamo raccolto più di 80 preparazioni nostre romagnole e nazionalpopolari suddivise per varie sezioni partendo dai primi fino ad arrivare alle bevande e quindi anche questo sapere viene messo a disposizione appunto delle persone raccolto in un libro che si chiama il gusto della morbidezza. Questo è un incontro che abbiamo organizzato per le famiglie ed è all'interno di un progetto che abbiamo presentato due anni fa che si chiama una casa residenza aperta al territorio, un progetto finanziato dai piani di zona per la salute e il benessere sociale del distretto di Rimini Nord ed è la nostra realtà, noi siamo l'ASP Valloni Marecchia, un'azienda distrettuale che si occupa di servizi alla persona, di servizi per anziani che gestisce appunto due case residenza, una Rimini e il Valloni che è da tutti conosciuto e anche la casa residenza di Verucchio che è altrettanto conosciuta. Con questo progetto vogliamo così offrire alle persone che vivono a domicilio, che hanno difficoltà legate alla non autosufficienza, legate alla non autonomia, vogliamo offrire un po' la nostra competenza e allora abbiamo pensato che forse con i nostri suggerimenti, anche ascoltando le difficoltà, possiamo essere di aiuto anche a domicilio. Attraverso il cibo appunto non ci si nutre solamente per appunto vivere ma è anche proprio l'affetto, è anche proprio quello che passa da persona a persona, anche proprio come aiuti una persona che ha difficoltà. Ovviamente l'obiettivo per gli operatori che lavorano nella struttura è quello di mantenere più a lungo possibile l'autonomia con tutti gli accorgimenti che si possono trovare e fare in modo che la persona possa mangiare delle cose che gradisce. Uno degli obiettivi che abbiamo per il 2020 è che situazioni come queste, come questa organizzata dall'ASP, quindi da un'azienda di servizi della persona che gestisce strutture per anziani ma che decide di aprirsi al territorio e quindi anche a chi ha a casa nel proprio contesto domiciliare persone che possono avere difficoltà, non solo di deglutizione. Ecco, auspichiamo e speriamo che in un contesto come quello romagnolo, emiliano-romagnolo, ci sia sviluppo di una cultura di attenzione rispetto a questa tematica e l'idea di poter essere protagonisti ci farebbe molto piacere e quindi ci presentiamo ad altri raccontando le varie esperienze che stiamo facendo. Rieccoci in studio. Allora, abbiamo sentito l'approfondimento, abbiamo scoperto che cos'è la disfagia, di che cosa si occupa Idea Flavor, tra l'altro un argomento con tantissime addentellate, si parte dalla difficoltà di deglutizione, si apre un mondo sulla dignità della persona, anche sul lavoro degli operatori. Noi abbiamo in studio qui con noi Maurizio Matteini Palmerini di Idea Flavor, dell'Associazione. Buonasera Maurizio. Buonasera a lei. Mentre tra l'altro scorrevano le immagini che abbiamo visto, dietro gli intervistati ti si vedeva ogni tanto tra i tavoli a parlare con le persone. Volevo chiederti di circoscrivere un po' quel momento. Eravamo a Villa Verucchio, se non ricordo male, fino a ottobre. 25 di novembre. Ecco, che cosa facevate? Qual era il vostro lavoro? Abbiamo cercato di raccontare la storia di Flavor, quando è nata, perché è nata. Ad esempio, era partita la nostra storia mia e di Andrea, il mio presidente, quando lui era direttore di una casa protetta a Montescudo. Siccome si pensa che le persone che sono ricoverate nelle case protette non hanno più nulla da dare, da consegnarci, in realtà abbiamo fatto un'indagine e abbiamo cominciato a raccogliere una serie di ricette. Siccome eravamo a Montescudo, e a Montescudo c'è una sagra antichissima sulla patata, abbiamo cercato di partire da quello, cioè attirando la loro attenzione su quel piano lì. E abbiamo scoperto due cose. La prima, all'interno delle case di riposo si fa da mangiare per tutti uguali, anche all'interno degli ospedali. E mentre abbiamo chiesto alle persone ricoverate come facevano, ad esempio la patata lessata, banalissima, abbiamo scoperto che c'è chi la fa bollire con la buccia, chi li toglie la buccia, chi la taglia a pezzi, chi ci mette l'origano, chi ci mette l'alloro, una marea di differenze e siamo solo a una patata lessa e non l'abbiamo condita ancora. Quindi questa cosa ci aveva colpito molto. E all'interno di quella struttura ci erano ricoverate anche due cuoche, ex cuoche, due cuoche importanti della riviera degli anni 50. Una era una cuoca del Savioli e l'altra del Gandotel. Bene, queste due signore, quando ci raccontavano come facevano, anzi non ci hanno mai raccontato come facevano quella ricetta della patata, ma hanno sempre riferito la mia mamma e la mia nonna, come se il cibo le riportasse ad un momento in cui erano felici, che qualcuno si prendeva cura di loro, e come il cibo ti riporta da una dimensione di felicità. E quindi abbiamo cominciato a pensare che forse queste notizie potevano essere proprietà di tutti. Avremmo voluto fare un libro, che lo abbiamo fatto, ma per dimostrare alla città di Montescudo che al limite estremo del paese c'era un posto che poteva essere ancora un momento di cultura. Per quella città, per i nipoti di queste persone. Quando abbiamo fatto vedere il materiale che abbiamo raccolto al dottor Fioritti, Angelo, che era in quel momento il direttore sanitario della USL, ci ha detto, ma perché non organizziamo un convegno proprio sull'alimentazione in quel di Montescudo, visto che nasce tutto lì, dedicato alle strutture ospedaliere e alle strutture residenziali. Bene, cosa fatta? E lì abbiamo scoperto un'altra cosa, che era che la maggior parte, la quasi totalità delle case di riposo e gli ospedali, per le persone che hanno una difficoltà a deglutire, frullavano il cibo di quel giorno e addirittura lo mischiavano, cioè un primo, un secondo, un contorno, venivano mischiati e frullati insieme e si chiamava pappone, cioè tutti lo chiamavano il pappone. Che non è una cosa che invogli molto a mangiare. Sembra che non sia piaciuta, ma ha una sua logica, che è come dire, le persone che sono inappetenti, perché le persone che hanno dei problemi di disfagia, il mangiare è un po' una sofferenza, e se poi il cibo non è buono, o non è preparato bene, non è presentato bene, questa aumenta, perché se non scatta la colina in bocca, non riusciamo. Un po' di voglia, un po' di desiderio quando si mangia. Però, siccome mangiano di meno, cercavano di mettere proteine, vitamine, e tutti insieme, anche se non finisse, ha manzato un po' di tutto. Questa era la logica. Nulla da obiettare. In alcune strutture, invece, frullavano separatamente i piatti. Ma succede spesso che, quando si dà da mangiare alle persone, gli si aiuta, gli si imbocca, succede sempre che uno non si sente bene, va accompagnato fuori, viene messo a letto, oppure uno si sporca, lo si porta a lavare, quindi gli operatori che rimangono in sala sono sempre di meno di quelli che dovrebbero essere. E quindi, per poter fare tutto, si riunisse con i piatti. Ok. E quello che noi abbiamo presentato, questa che raccontava prima Gabriele, questa esplosione, cioè la separazione di tutti gli ingredienti, permette di fare, come dire, dei piatti dove il soggetto, cioè chi mangia, può anche decidere che voglio più sugo, voglio meno sugo, eccetera, eccetera. Torna un po', diciamo, protagonista attivo del prato. E tra gli obiettivi che ci eravamo dati con queste prime iniziative, con le ASPE, è anche quello di cominciare a pensare, perché noi ci siamo sorpresi, perché i sapori che abbiamo sentito nella scorporazione erano diversi da quelli che mentalmente ce l'avevamo già fatti noi in passato nelle nostre abitudini. E quindi, come dire, ci siamo persi delle cose. E allora le persone che mangiano frullato, che mangiano, vuol dire, in sostanze cremose, che vengono un po' tenuti a parte, tanto che più volte abbiamo sentito in strutture, perché anch'io vengo dal sociale, in strutture, me che la roba ne manierà mai. Io quella cosa non la mangerei mai. E se tu mi vuoi dare quella cosa, ma questo è il tuo punto di partenza, credo che io non la manzerò. Certo, sì, sì. Un po' così. Ecco, questa è un po' la storia. Io vorrei però tornare un attimo anche a quel momento a Villa Verucchio. Le persone, anche chi è venuto lì, chi per un po' di curiosità, chi perché magari a casa ha una persona con delle difficoltà, come hanno reagito? Sia nel sentire la storia, sia poi quando hanno provato i piatti. Bene, tutti hanno provato i piatti, intanto dobbiamo dirlo tutti. C'erano molte cuoche, molti operatori di struttura, parecchi familiari, e questo ci ha fatto piacere, perché sono persone molto interessate. E ognuno abbiamo consegnato alle persone una scheda, in cui li invitavamo a dare un giudizio dei vari piatti, proprio dal pappone fino a... Cioè, quindi qui dall'ingredienti tutti mischiati, mescolati all'ingredienti separati e poi scorporati, e abbiamo chiesto di dare dei giudizi mentre mangiavano, pensando all'aspetto, al sapore, l'odore, e poi anche se avevano... E anche a riconoscere gli ingredienti. Ah, ok. Su questo fatto qui degli ingredienti, gli ingredienti sono stati riconosciuti quasi tutti, erano dieci tavoli, quarant'un persone, separati in dieci tavoli, e quasi tutti i tavoli hanno indovinato gli ingredienti quando sono stati consegnati in modo scorporato. Prima abbiamo avuto di tutto, ad esempio, i piatti erano una tagliatella con ragù, e una piadina romagnola con erbe saltate e sardoncini. Questi erano i due piatti che abbiamo presentato. Bene. Tra gli ingredienti sono stati sottolineati semolino, fegato alla veneziana, ce n'è di distanza. I ceci, i fagioli, tante cose che in realtà non c'erano. Solo quando gli ingredienti sono stati consegnati scorporati c'è stato che tutti li hanno identificati. Quindi scusa, se ho capito bene, le persone che erano lì quel giorno la prova è stata prima a prendere questi piatti, quindi tagliatelle a ragù e piadina. In maniera associata. Esatto, quindi prima parati, frullati e fatti mangiare e poi invece fatti con la vostra tecnica degli ingredienti diciamo così separati. Solo tre tavoli non hanno indovinato un ingrediente che era la piadina. però tutti hanno indovinato del resto. Questo ci ha fatto molto piacere e abbiamo anche chiesto di dare un giudizio insomma se erano invitanti gustosi eccetera eccetera e abbiamo anche restituito e rispedito quindi alle persone che avevano partecipato un report che raccontava il loro giudizio che secondo noi è molto positivo. Ciò che ci piacerebbe è proprio questo come dire di fare di pensare ad un momento anche una volta alla settimana di mangiare morbido in casa tutti proprio per come dire ma questo anche all'interno di una struttura potrebbe essere una modalità come dire per rendere un po' più nobile questo piatto non sai sembra quasi che le persone come raccontava prima Linda debbano vergognarsi di questa malattia strana in realtà è una difficoltà purtroppo è un meccanismo comunque è impressionante soprattutto sentendo anche il racconto delle persone che abbiamo intervistato e anche quello che ci riporti tu quanto un gesto semplice come mangiare in realtà si porti dietro tutta una serie di problematiche appunto dall'affetto delle persone la vita comune quindi anche tenere un po' di dignità nel pasto cambia la vita delle persone lei ha ragione Stefano anche secondo noi è proprio così il cibo è forse non è ancora stato studiato bene ma sembra che abbia un grande effetto su di noi lei prima ha raccontato anche quando siamo a tavola ci raccontiamo ma almeno per noi italiani è uno strumento per incontrarci parlare fare anche accordi sì decisamente Maurizio un'ultima domanda prima di salutarci ha accennato anche Andrea Vorabbi il presidente alla fine del servizio ovvero il 2020 come sarà quest'anno avete già qualche progetto appuntamento qualcosa in programma abbiamo già qualche progetto e qualche appuntamento speriamo di completare questa collaborazione con l'ASP Valle del Marecchia Valle del Marecchia perché è a casa nostra e quindi vorremmo che tutto partisse da lì qui ed esplodesse nella regione e anche nelle altre regioni però abbiamo già contatti con altre ASP dell'area di Cesena di Ravenna e quindi questo ci porterà sicuramente un bel 2020 noi vi facciamo un in bocca al lupo che sia un 2020 insomma con tanti successi nel senso che vi facciate conoscere il più possibile anche perché sentiamo che c'è un forte interesse esatto e poi è un'iniziativa meritevole ed è giusto insomma che se ne parli il più possibile Maurizio grazie per essere stato grazie a lei Stefano e buona serata noi come sempre siamo arrivati in conclusione ma prima di salutarci prima della sigla finale lasciamo la parola a Silvia Forassassi di Volontarimini che ci racconta un po' gli appuntamenti del fine settimana legati al sociale grazie per essere stati con noi e buona serata ben ritrovati per il nostro appuntamento con l'agenda solidale con l'intento di promuovere quelle che sono gli appuntamenti degli enti del terzo settore locali anche questa volta abbiamo tentato di accontentare un po' tutti i gusti cercando di proporre degli appuntamenti variegati partiamo con uno spettacolo il 25 gennaio Sergio Casabianca e Le Gocce saranno in concerto a Bellaria parte del ricavato sarà devoluto all'associazione Alzheimer Rimini per il progetto Chi sono io riparte poi il programma del WWF Rimini con un ricco calendario di escursioni per la scoperta del nostro territorio e dei dintorni prossimo appuntamento è il 26 gennaio con una camminata sulle colline di Pesaro rimanendo in tema Adam Crisalide un'associazione attenta alle donne che affrontano un difficile percorso terapeutico dovuto a una diagnosi di tumore al seno promuove ogni domenica una camminata sul mare il ritrovo è al bagno 40 alle 10 la partecipazione è aperta a tutti e l'offerta libera aperte poi le iscrizioni per il corso sul tema dell'affido familiare promosso dall'associazione famiglie per l'accoglienza il corso si sviluppa in sei incontri gratuiti al centro per le famiglie di Rimini si parte venerdì 31 gennaio la conclusione il 6 marzo ha riaperto poi lo sportello del neomaggiorenne un progetto promosso dall'associazione agevolando lo sportello si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze dai 16 ai 26 anni che vivono o hanno vissuto in affido comunità o casa famiglia il servizio è attivo ogni giovedì al centro giovani RM25 di Rimini dalle 16 alle 19 prende poi il via un interessante progetto dal titolo la grotta del baobab un servizio gratuito per il co-working e affiancato a uno spazio ludoteca per spiegarci meglio il servizio è rivolto in particolare alle donne per conciliare vita lavorativa ed esigenze familiari ed è attivo tutti i giovedì dalle 14 alle 18 nello spazio pubblico autogestito Grotta Rossa di Rimini riapre poi l'Azzero un appuntamento per gli aspiranti nuovi volontari il mercatino vintage e solidale di Caritas Rimini infatti invita le persone interessate a conoscere meglio questo progetto lunedì 27 gennaio alle 18 a un aperitivo in via Madonna della Scala per conoscersi e parlare appunto di quelle che sono le prossime iniziative in programma i ragazzi di Coriano poi cambiano il clima piantando alberi con il progetto Piantiamola il 30 gennaio a Sant'Andrea in Besanico ci sarà una serata di presentazione dell'iniziativa che volta alla promozione di una sensibilità sui temi della natura rivolta in particolare alle giovani generazioni ma anche ha come obiettivo quella di riqualificare una zona verde del territorio sabato 1 febbraio concludiamo con la 42esima edizione della giornata per la vita la rete delle associazioni che aderiscono alla giornata invita alla messa delle 17.30 al Duomo di Rimini a seguire la pizzata insieme nella casa per ferie Stella Maris di Marebello l'invito in particolare ha rivolto alle famiglie con figli con disabilità come sempre ricordiamo che gli approfondimenti sulle notizie segnalate possono essere visionabili nel sito www.volontarimini.it chi volesse poi invece segnalare una notizia da proporre all'interno dell'agenda solidale può scrivere a redazione chiocciolavolontarimini.it a redazione chiocciolavolontarimini.it a redazione di Marebello